Musica Cari telespettatori di Fano TV, buonasera e benvenuti all'ultimo approfondimento che dedicheremo al confronto tra CNA e i candidati a sindaco della città di Fano. Vado subito a presentarvi gli ospiti di questa sera, il sindaco di Fano Massimo Seri, buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. E Moreno Bordoni, segretario CNA della provincia di Pesaro Urbino, buonasera anche a lei Bordoni. Buonasera e buonasera a tutti i telespettatori. Seri, sono passati cinque anni dalla sua nomina a sindaco, a fine maggio si ripresenterà nuovamente per un secondo mandato. Ora, alla luce di ciò che è stato fatto e di ciò che si potrebbe ancora fare, come si immagina la Fano del futuro? Beh, io me le immagino in termini positivi perché Fano ha grandi potenzialità, non sempre percepite e alcune volte inespresse. E penso che ci siano tutte le condizioni per poter fare delle sinergie, delle politiche, degli investimenti che possono dare maggiore impulso. C'è un percorso già avviato con interventi importanti su tutti i fronti, dal porto, dal mondo della produzione, dalla cultura, dall'infrastruttura e dagli interventi anche di riqualificazione che danno un valore aggiunto. Io penso che ci siano buone potenzialità. L'importante è crederci ma soprattutto fare squadra. Bordoni, a lei. Uno dei punti programmatici più importanti della piattaforma della CNA riguarda l'abbassamento dei tributi locali alle imprese. Si evince da un osservatorio nazionale della nostra associazione che Fano come città, così come tutte le città della nostra provincia, non sono proprio ben posizionate in maniera virtuosa in questa particolare classifica. In un secondo mandato, come ritieni di affrontare questo tema vitale per la vita e ovviamente delle nostre imprese e soprattutto per l'economia del territorio? Questo è un tema importante, specialmente nei momenti difficili. Nei momenti difficili bisogna cercare di dare risposte e dare incontro. In questi anni io penso che un ragionamento di questo tipo l'abbiamo già avviato. Per esempio abbiamo fatto una scelta importante sulla Tasi. Oggi a Fano non paga quasi nessuno la Tasi, tant'è che abbiamo un introito di circa 10.000 euro e significa il nulla. Perché abbiamo proprio pensato, rispetto ad altre città anche vicino, che l'hanno applicata, abbiamo pensato che chi produce, chi lavora, non può avere anche il peso della Tasi. Poi ci sono altre tassazioni, ci sono le utenze che hanno un peso importante. Su questo io penso che si possa e si debba fare uno sforzo maggiore, però un sindaco che ha già governato non può fare promesse, deve dire quello che ha fatto e come intende procedere. Allora anche su questo noi, ecco, va fatta chiarezza e va detta la verità. Quando io sento sindaci o candidati sindaci che dicono toglieremo le imposte locali, gli cresce il naso perché è un'emerita bugia. È impossibile, non è consentito. Mentre si può fare andando incontro, riconoscere quei costi che le imprese sostengono con dei contributi. In questo senso noi abbiamo già applicato questo percorso 2018, noi abbiamo messo una somma importante coinvolgendo anche ASET che nel 2019, quest'anno, vogliamo rinnovare ed incrementare proprio venendo incontro a questa esigenza. Cosa significa? Significa che noi abbiamo restituito, dato contributi per coprire le utenze a tutta una serie di categorie, di chi produce, di commercianti, di operatori turistici. Se volete posso fare anche l'elenco degli elementi caratterizzanti. Chi apre una nuova struttura, chi ha assunto almeno un dipendente, chi fa manutenzione straordinaria. Per gli hotel, tutti coloro che tengono l'hotel aperto tutto l'anno, noi abbiamo pagato tutte le utenze. E il contributo l'hanno avuto tutti, tranne uno che ha sospeso la sua attività nell'arco dell'anno. Questo per citare alcuni elementi, ma ce ne sono anche altri. Per esempio, chi apre in una zona con maggiori difficoltà o chi viene da altra città, nella città di Fano, noi abbiamo, non dico esentato, ma dato questa opportunità, questo contributo. Vorremmo rinnovarlo. Poi c'è un tema di tassazione. Cosa ha fatto Fano? Beh, per esempio, sulle altre imposte dove noi determiniamo le aliquote, in questi anni non abbiamo mosso nulla, tant'è che, per esempio, sull'occupazione del suolo pubblico, sulla pubblicità, sono fermi dal 2005 al 2001, ma anche quando sento dire si è incrementato e merita bugia. L'unica cosa che effettivamente avevamo aumentato era l'aliquota sulla prima casa, che è durato un anno e col seno del poi, dico, abbiamo fatto bene, perché così abbiamo maggiori trasferimenti da parte dello Stato senza incidere per un euro sui cittadini. In questi anni stiamo facendo anche un lavoro sulla Tari, sulla raccolta, sulla gestione dei rifiuti, tant'è che non è mai incrementata. Abbiamo iniziato una tendenza di diminuzione, seppur piccolissima, allo zero virgola, ma stiamo andando in quella direzione. E quindi continuiamo. Esatto, quindi pensando al futuro, l'impegno, che è costanza, è quello di incrementare questi fondi a disposizione delle imprese che investono, che aprono, che decidono di investire e lavorare sulla nostra città. Proseguendo su questa linea. Un altro tema molto importante, Moreno, è quello della burocrazia. Sì, senz'altro. Un altro dei fardelli pesanti per le nostre imprese è il carico di addempimenti burocratici, spesso anche complicati, dalle amministrazioni comunali. Come ritenete di intervenire per snellire la macchina comunale e per migliorarla sotto questo aspetto? Qui avete perfettamente ragione. Riconosco il limite principale che la pubblica amministrazione in generale ha. Su questo abbiamo iniziato un percorso, perché sono difficoltà che anche chi amministra un sindaco incontra quotidianamente. Trova anche imbarazzo alcune volte a spiegarlo alla gente perché ci sono dei ritardi, perché ci sono tutta una serie di procedure. Allora abbiamo iniziato coinvolgendo tutti i tecnici a disposizione e abbiamo iniziato a fare un lavoro insieme a Fano-Pesaro, le due strutture, gruppi intercomunali che stanno lavorando per ridurre i processi amministrativi e per semplificarli. Con l'obiettivo di farlo in pochi mesi, uniformare le procedure, perché non può essere che chi, tanto sappiamo che città così vicine, gli imprenditori, i professionisti vanno da una parte all'altra. Allora non può succedere che in un comune ci sia un percorso e in un altro ce ne sia un altro. Quindi abbiamo fatto questo lavoro, vogliamo uniformare ma soprattutto semplificare e ridurre i tempi. Non è anche questa una promessa, è un lavoro già avviato e già iniziato perché tradotto significa anche far risparmiare ai nostri imprenditori. Noi sappiamo che un'altra tassa, che non è tassa ma che in realtà ha un peso sull'attività delle nostre imprese, è proprio quella della pesantezza burocratica che è un male di questo paese, non dico di questa città, ma di questo paese. Per alcune scelte le subiamo dal livello nazionale, ma quello che possiamo fare noi lo stiamo già facendo. Io vorrei arrivare entro l'inizio, dopo la fine estate, insomma settembre-ottobre, con una proposta che riduce almeno alcuni passaggi, ma soprattutto ci sia anche una chiarezza su cosa si deve fare e uniformità anche tra amministrazioni vicine. Adesso passiamo al primo contributo perché ormai, come sapete, ci sono delle domande poste da coloro che lavorano proprio nel settore del commercio. Ascoltiamo. C'è una forte crisi nel commercio e molti negozi stanno chiudendo. Cosa pensate di fare? Sindaco che cosa risponde? Beh, con quel contributo si pone un tema vero. Questo è un comparto che sta soffrendo molto per una serie di ragioni. Da una parte perché cambiano anche le dinamiche, cambiano le abitudini del consumatore. Dall'altra perché ci sono fenomeni infrastrutturali esterni che stanno condizionando, e penso anche l'elemento che riguarda la nostra città. Qui poi dobbiamo dividere fra centro storico e grande distribuzioni e centri commerciali. Mi sento di dire una cosa intanto, è fare chiarezza. Perché quando si programma, si parla di futuro, si parla di problematiche, bisogna dire la verità. Non si può dire le bugie. Allora qui c'è un problema vero, che è mancata una pianificazione vera sul nostro territorio. Si è pianificato senza studiare il territorio. Parliamo di imprenditori. Un imprenditore quando apre una nuova struttura, una società, la prima cosa che fa è un'indagine di mercato. Qui chi ha pianificato non ha fatto un'indagine sui cambiamenti, sui mutamenti, sulle potenzialità e sulle dinamiche della città. Tant'è che nel 2009 si è fatta una pianificazione che oggi dà i suoi risultati negativi e positivi. E cioè ha previsto oltre 120 mila metri quadrati di superficie commerciali nella nostra città. Un'esagerazione. E oggi quando vediamo queste aperture che si attribuiscono all'amministrazione, sono un falso. Sono l'applicazione di quel piano regolatore. Poi si possono creare delle condizioni, ma quando uno decide perché il piano regolatore lo prevede, apre. Detto questo, che non è una giustificazione, però vorrei sottolineare che questa amministrazione non ha previsto una sola variante commerciale. L'unico intervento vero che ha fatto è stato dare il diniego in quanto non si era ultimato il passaggio della previsione commerciale dell'ex area dello zuccherificio bocciandola. Detto questo, quali sono le risposte che si danno? Perché poi bisogna essere, chi ha la responsabilità deve dare risposte e non fare chiacchiere. Secondo me ci sono tre elementi. Un primo elemento, una nuova valorizzazione a quella che è il commercio della nostra città. A cominciare dal centro storico che sta soffrendo con un'operazione di marketing forte, dove si dà un'identità diversa magari da quella di altre città per attrarre attenzione, clientela e persone. Per le nuove strutture, non si può proseguire con nuove strutture commerciali, perché questo andrebbe ancora a inquinare, a pesantire il mercato della nostra città. Poi c'è un nuovo tema, quello del commercio online, perché effettivamente questo ha portato un cambiamento e ha portato delle penalità ai nostri commercianti. Allora su questo io penso che ci debba essere una regia e un intervento da parte del pubblico e dell'amministrazione pensando ad una piattaforma e-commerce, però questa fatta in collaborazione con le rappresentanze, qui CNA ne è una di queste, dove costituiamo un tavolo per ragionare su una proposta di questo tipo e dove c'è un aiuto e un intervento del pubblico, come facciamo ad esempio nel turismo, quando noi andiamo a promuovere la città per promuovere il turismo, penso che è giunto il momento che le amministrazioni facciano sforzo per promuovere e aiutare il nostro commercio, che in questo momento forse è il comparto che più di altri è in sofferenza. La terza elemento, come dicevo prima, che si va a incrementare, sono quegli incentivi e aiuti specifici che vanno verso chi ha delle attività commerciali, anche questo per aiutare chi magari può aprire in determinati luoghi dove diamo degli incentivi, aumentare il plafond del 2018 per il 2019 con contributi che vanno a coprire le utenze per coloro che fanno manutenzione straordinaria, che assumono, che aprono e si trasferiscono da altre città a Fano. Poi c'è un altro elemento che per me è importante, che è più strategico e complessivo, attrarre investimenti nella nostra città e quindi anche trasferire attività. Noi abbiamo delle aree che sono un potenziale, quindi sto già lavorando con dei collaboratori per fare una proposta di promozione territoriale della nostra città. Ci sono fiere in giro per il mondo dove attraggono investimenti di fondi importanti per tutta una serie di attività che potrebbero portare ricchezze nel nostro territorio. E su questo noi abbiamo una serie di aree che partono da Ponte Sasso a Torrette, al centro storico, nelle zone limitrife, che in una promozione territoriale significa fare una proposta plurale e forte. Oggi è più facile trovare chi investe 100 milioni rispetto a chi investe un milione su un territorio. E questo penso sia veramente quelle proposte che poi hanno delle ricadute plurali sulla città. Bene, Sindaco, ci ha raggiunti un altro imprenditore, Davide Renzoni, e benvenuto nei nostri studi, dirigente nazionale di Crai. Salve a tutti e salve a tutti gli spettatori di Fano TV. Anche lei ha una domanda da porre al Sindaco di Fano. Certo, io Sindaco lo volevo chiedere, dopo lo sviluppo del piano strategico Orizzonte Fano 2030, come pensate di impostare il nuovo piano regolatore? Sì, questa è una domanda che a me piace molto, perché Fano per la prima volta si è dotato di un piano strategico, non si è mai verificato nella storia della nostra città. Un piano strategico partecipato, che ha visto il coinvolgimento di tanti operatori, di tanti cittadini, di tante intelligenze e competenze. Perché io parto dal presupposto che chi amministra la responsabilità non deve guardare all'oggi o a domani, ma deve avere un orizzonte che guarda almeno a 15-20 anni. Poi ogni cosa che noi facciamo la facciamo in una progettualità, e ogni passo ha una sua logica. Questo è quello che mi ha caratterizzato anche negli interventi fatti in questi anni. Col piano regolatore e con il piano strategico abbiamo aperto sette cantieri, uno dei quali ha già dato i primi sviluppi col contratto di fiume, che anche questa è un'altra potenzialità, ma è un progetto che guarda lo sviluppo, le potenzialità del porto, del nostro comparto produttivo, della nostra città, tutto un insieme di aspetti. Ma soprattutto c'è stato uno studio vero della città, cosa è stata ieri, cosa è oggi e cosa vuole essere domani. Perché non bisogna mai scimottare gli altri, ma bisogna avere sempre una propria identità e una propria peculiarità per essere originali ed essere attrattivi. E questo è uno strumento straordinario per il nuovo piano regolatore. Anche su questo abbiamo già lavorato, noi abbiamo già proiettato e già pronta la proposta per la città pubblica, che ha una importanza straordinaria e che si lega molto anche alle prospettive di chi fa commercio, di chi fa attività produttiva, chi fa turismo. E la presenteremo a giorni. Poi c'è il tema della città privata, che volutamente non vogliamo portare in queste settimane, perché presentare la città privata in campagna elettorale significa non fare il bene della città, perché nascono dei meccanismi che non fanno l'interesse collettivo, l'interesse pubblico. E con il nuovo piano regolatore deve valorizzare quelle che sono le nostre caratteristiche. È fortemente concentrato per dare un nuovo impulso a tutto quello che è il turismo nella nostra città. È un nuovo impulso per valorizzare il nostro centro storico, è un nuovo impulso per valorizzare e differenziare quelle che sono le nostre caratteristiche dalle attività agricole, dalle attività turistiche. Per esempio c'è tutta una visione della parte sud oltre il metauro, dove ne abbiamo la maggior parte ricettiva, dove gli diamo una distinzione fortemente a vocazione turistica. Poi c'è tutta un'idea per aiutare e favorire, pensando anche a quelli che possono essere i servizi per tutti coloro che fanno le attività produttive. Oggi noi abbiamo la possibilità anche di disegnare e sapere come cambiano i servizi, come cambiano gli spostamenti. Ormai c'è monitoraggio su tutto. Sappiamo anche quante persone ogni giorno si spostano fuori Fano o che vengono verso Fano. E questo ci consente di ripensare i servizi, di ripensare anche una pianificazione delle strutture. È un piano, pensando proprio a quella pubblica, che vuole fare anche molti investimenti. Perché fare molti investimenti significa un'opportunità di lavoro, un'opportunità di lavoro anche per le nostre imprese. Noi in 5 anni abbiamo portato quasi, no quasi, più di 130 milioni di risorse vere, significa progetti già realizzati in cantiere o appaltati a giorni. A queste se ne aggiungono altri 30, già destinate, ma che verranno utilizzate nei prossimi anni. E questo, se mi è consentito, bisogna anche fare un nuovo ragionamento come coinvolgere maggiormente le nostre imprese del territorio, pur rimanendo nella legalità e negli strumenti che noi abbiamo. Per esempio, una scelta che noi abbiamo fatto è stata quella di cercare di non fare sempre mega appalti, ma provare a ridurli, per esempio, che su certe manutenzioni abbiamo cercato di diversificarli. Oggi c'è una nuova opportunità che il governo ci ha dato, che porta da 40 mila a 150 mila la quota per poter fare le contrattazioni, adesso mi sfugge il termine, mediate. Cosa significa? Noi possiamo chiamare alcune ditte del territorio. Però anche qui dovremmo fare delle scelte insieme agli operatori, perché ogni medaglia ha il suo rovescio. E dovremmo valutarle insieme, perché quella procedura poi ci impedisce, nell'arco dell'anno, di richiamare le stesse aziende. Allora ecco, va fatto un ragionamento serio, perché un sindaco, un amministratore, la prima cosa che ha a cuore è il valore delle proprie imprese, perché se lavorano nelle proprie imprese significa maggiore economia, significa sviluppo a cascata anche su altre attività. E allora ecco l'impegno che penso di prendermi in continuità è quello di migliorare questo aspetto con le imprese, cercando di aumentare il numero dei contratti, degli appalti da fare, in modo che vengano diversificati, perché quando riusciamo a dividerli in qualche modo favoriamo chi è più vicino, perché in questi casi c'è una maggior difficoltà da chi arriva da lontano. Sindaco, adesso mandiamo il secondo contributo, questa volta a rivolgerle una domanda, sarà il presidente della CNA di Fano. E sul tema delle infrastrutture, cosa ritenete più importante per la città di Fano? Parlare di infrastrutture significa parlare di strategia di un territorio. Per essere sintetico mi vengono in mente tre elementi infrastrutturali fondamentali. Terminare la E78, sulla quale mi sono speso in più occasione tantissime volte, per lavori ripresi nella vicina regione della Toscana, ma adesso è giunto il momento di intervenire e di ultimare la parte marchigiana. La banda larga, altra infrastruttura importante per il nostro territorio, per i servizi, per chi lavora, per chi produce. Terza infrastruttura importante è migliorare il collegamento verso Pesaro. Noi abbiamo fatto tanto in questi anni e sotto gli occhi di tutti, tanti chilometri di nuove strade e abbiamo migliorato il nostro traffico. Lo migliorremo insomma quando saranno terminate, ma io penso che occorra una vera variante alla Statale 16 che possa creare una complanare e un legame con Pesaro. E aggiungo anche un casellino a Fano Nord che era già previsto nelle opere compensative e sulla quale abbiamo già iniziato a lavorare che si possa collegare con il casellino di Pesaro e di Muraglia. Sindaco, come riporta uno dei punti della piattaforma della CNA ai candidati a sindaco? Sono importanti anche le collaborazioni con gli altri territori, con gli altri comuni? Già in parte vi siete mostri in tal senso? Credete di proseguire anche in futuro? Anche questo è strategico. Uno dei limiti di questo territorio, della vallata del Metauro è quella della divisione. Troppo spesso in certi momenti invece di essere uniti ci si è trovati divisi facendo il gioco di altri. Su questo ho iniziato a lavorarci proprio iniziando con il contratto di fiume è un progetto condiviso. Ci sono delle grandi opportunità di risorse aggiuntive che arrivano dall'Europa e da progetti anche governativi. Ma per farlo bisogna essere uniti. Su questa strada ci siamo già indirizzati, abbiamo già fatto delle progettualità e abbiamo già avuto soddisfazioni. Penso al lavoro della pista ciclabile Fano a Senigallia, penso a dei progetti europei destinati a delle progettualità condivise e su questo abbiamo cercato di inserire oltre alla città di Fano che era capofila anche comuni limitrofi. Penso a una serie di progetti con il comune di Mondolfo per cui vorrei potenziare questo lavoro a cominciare anche dall'Ufficio Europa che sia uno strumento non soltanto per Fano ma anche per i comuni limitrofi. Dovremo ragionare sempre più anche su strategie economiche perché ormai le sfide non si giocano solo all'interno dei propri confini amministrativi. su questo abbiamo iniziato a lavorarci e l'abbiamo fatto con autorevolezza senza volerci imporre perché quando un comune più grande si vuole imporre parte col piede sbagliate. I processi hanno i loro percorsi si sono avviati adesso si possono solo accelerare io penso che nel giro di un po' di mesi e un anno potremmo anche chiudere il cerco e fare delle cose strutturate e forti che possono parlare su molte sfide all'unisono. E con questa sua risposta sindaco chiudiamo qua questo approfondimento grazie a Moreno Bordoni segretario CNA della provincia di Pesorobino grazie anche al sindaco di Fano Massimo Seri vorrei ringraziare tutta la CNA e la collaborazione di CRAI per questi approfondimenti che come vedete alle mie spalle abbiamo intitolato appunto Fano un'impresa in comune. Un ringraziamento che faccio anch'io perché CNA con questa iniziativa anche CRAI che l'ha sponsorizzata ha creato un'opportunità una voce plurale in modo tale che gli operatori cittadini possano ascoltare quelle che sono le proposte vere di chi vuole governare la città. Grazie Seri e grazie Bordoni e buon proseguimento di serata a tutti voi telespettatori di Fano TV Arrivederci Grazie a tutti.